Raffaele Ferrero Siamo riusciti a non peccare sotto questo punto di vista Infatti abbiamo fatto bene principalmente sotto il profilo della difesa Terminati il ciclo di studio delle scuole Raffaele Ferrero al primo anno di università Come riesci a conciliare lo studio e la pallavolo che è la tua grande passione? Io cerco di rientrare quando riesco Soprattutto il fine settimana tipo giovedì e venerdì In modo tale da farmi due allenamenti insieme ai miei compagni E poi essere al meglio come posso per la partita di sabato e di domenica Comunque la pallavolo rientra nei tuoi piani futuri? Vorrei giocare a pallavolo anche nei prossimi anni? Molto probabilmente penso di sì E penso di restare qua perché è un ottimo ambiente Mi trovo benissimo con la squadra e con i miei compagni Quindi penso che anche il prossimo anno cercherò di conciliare con gli studi Il gruppo, secondo te che punto è? Dopo la sconfitta della Mezzia Oggi apparentemente facile l'impegno con Anto Crotone Il percorso di crescita di questa squadra Secondo Lello Ferrara che punto è? È un ottimo, diciamo un buon punto Molto probabilmente lo stop di la Mezzia è derivato dal fatto che La squadra è altamente più forte di noi Ma nonostante questo si è visto anche questa sera contro il Crotone Siamo riusciti a rimanere una squadra molto compatta Sotto diversi punti di vista E siamo riusciti a vincere e a portare tre punti a casa Importantissimi per il proseguo del campionato